un saluto affettuoso a tutti voi che ci state guardando dalla ditta romano varoncelli in questi giorni siamo chiusi abbiamo appunto vendita di quadrata chiuso per ferie come tutti gli anni riapriremo il 31 agosto riapriremo e io sono qua a farvi a farvi vedere una serie d'articoli che lavoriamo noi gilet in tutte le salse cappuccio senza lunghi corti di tutti i colori variano prezzi poi tornato di modo alla volpe lavorata così però non le volpi di una volta anche più corta di questa ce l'abbiamo un po insomma un numero sempre molto alto d'articoli per fare scegliere tantissime persone ricordate che la vostra vecchia pelliccia inutile so puoi avere un ricordo piacevole però quando gli articoli sono fuori moda e non li vuole più nessuno noi siamo disposti a ritirarla sull'acquisto di un capo nuovo come può essere anche questo questo è uno shirling di quelli belli fai vedere si indossa dalla parte dall'una o dall'altra parte ora si fanno delle cose particolari molto belle rispetto al passato non hanno niente a che vedere gli articoli da oggi con quelli di un tempo per cui se avete interesse venite senza problemi perché come ho detto prima il mese di settembre siamo regolarmente aperti e ora siamo chiusi fate vedere una serie di modelli giratele velocemente abbiamo le giacche di tutti i colori marrone verde scuro verde chiaro rosse rosa ci sono in tutte le salse perché noi facciamo tantissimi articoli abbiamo in produzione anche tanti capi di tessuto tipo più o meno che si possono indossare da due lati ora le ragazze hanno scelto una serie di modelli che sono naturalmente fra i più venduti per esempio il giacchino blu con cappuccio insomma voglio dire quelli che facciamo e quelli che vendiamo la mantella che veste sia la signora che ha la 42 o che alla 54 sono capi stupendi li facciamo in tutti i colori e quindi li facciamo vedere anche per coloro che magari hanno necessità di taglie particolari o di modelli particolari o che oppure hanno tanti articoli vogliono qualcosa di insolito facciamo tanti reversibili oppure con l'interno in pelliccia ci abbiamo anche l'animalier ci abbiamo un po di tutto chi viene a quadrata a trovarci non farà mai un viaggio in vano perché di merce ce n'è tanta e sicuramente il capo che serve lo trovate sia come prezzo che come modellistica ricordate baroncelli è una vita che facciamo questa attività quello che non è sul pronto lo possiamo confezionare se avete necessità di taglie particolari allora quando riapriremo l'orario va dal martedì mattina al sabato tutti i giorni e la domenica pomeriggio dalle 15 e 30 alle 20 le persone che verranno i primi 15 giorni da noi potranno acquistare questo giacchino di visone a 890 euro è stato messo in proporzione ricordatelo i primi 15 giorni di settembre 8 e 90 dopodiché sono finiti non ne rifacciamo perché i nostri articoli sono aumentati tantissimo e io faccio dei sacrifici enormi per accontentare sempre le signore questo è un poncio di visone nero bellissimo dal vivo un velvet è stupendo e attraverso il televisore magari colore scuro non rende però dal vivo è bellissimo poi abbiamo di tutto dai giacchini chiari in tutte le salse ce l'abbiamo dalla pelle alla alla pelliccia il giacchino bianco quindi potete veramente scegliere facciamo sempre vedere i modelli più venduti e più richiesti e colori naturalmente più richieste più venduti la giovane donna ama tantissimo il bianco il perla e noi ne abbiamo fatti tanti tanti per cui chi verrà a trovarci potrà trovare un vastissimo assortimento come può essere anche questo cappottino di demi beffe leggerissimi capi leggeri sono tutte femmine sono piacevolissime abbiamo anche tante mantelle quest'anno allora a settembre saranno tutte pronte perché una parte ancora in produzione signori i baroncelli è una vita che fa questa attività quindi ha un grande assortimento se volete anche la pelliccia finta come la chiamo io c'è anche la possibilità di avere quella non c'è problemi abbiamo naturalmente tessuti molto belli perché noi gli articolini così scusate ma dal mercato non si possano tenere quindi anche quelle sintetiche diciamo usiamo questo aggettivo facciamo un prodotto bello ecco che non è che costi 20 euro una pelliccia finta insomma c'ha un certo prezzo anche quello e quindi la prendete il vera questo è lo zivellino ce l'abbiamo orizzontale verticale è tornato di gran moda anche il verticale questo è bellissimo e facciamo rivedere sì d'accordo il giacchino che abbiamo dato per i primi 15 giorni di settembre a solo 890 euro signori io auguro a tutti voi buone vacanze chi ci vede dal mare dalla montagna dalla campagna ovunque siate ricordate la ditta varoncelli che io vi saluta e vi aspetto a settembre grazie grazie grazie